Il disordine non sono solo gli oggetti che non ci servono più, ma anche il disordine delle opinioni altrui riguardo le nostre vite, i nostri lavori, i nostri compagni, il nostro guardaroba, il nostro peso, i nostri bambini, il nostro stile di decorazione. E poi ti chiedi con stupore perché sei sempre stanca? Oggi parliamo di decluttering. Bentornata su Mettiti Comoda che parliamo di soldi, il podcast di Silvia Lanfranchi, la Quiet Coach. La mia missione come money coach e mentore di business online è quella di aiutare le solopreneur come te a far pace col denaro, chiedere i soldi che ti meriti e imparare a vivere nell'abbondanza manifestando una vita che ami al 100%. In questo podcast troverai consigli, strategie, spiritualità e un po' di neuroscienze che ti aiuteranno a trasformare il tuo mindset nei confronti dei soldi. Sarò la tua coach, quella da cui vai quando hai bisogno di essere ascoltata, ma anche quando vuoi ricevere la spinta giusta nella direzione giusta. Sei pronta? Allora Mettiti Comoda che iniziamo a parlare di soldi e di business online. La frase che ti ho appena letto viene da un libro di qualche anno fa che si chiama Simple Abundance di un'autrice di cui sicuramente non riesco a pronunciare il nome e quindi non ci provo nemmeno perché è un nome, credo, con delle origini irlandesi, quindi molto complicato, te lo metto poi eventualmente nelle note di questo episodio. Perché parliamo di decluttering? Perché il decluttering è molto collegato con la manifestazione. Un ottimo modo proprio per avviare la manifestazione, per far accadere delle cose che desideriamo è proprio quello di fare spazio, anche fisicamente, grazie al decluttering. E il decluttering è proprio uno dei nove passi della manifestazione. Di questi nove passi parleremo e soprattutto li metteremo in pratica nella sfida di manifestazione che ci sarà all'interno della Mettiti Comoda Academy dal 9 al 19 di aprile. Nella libreria ho già registrato, ho già rilasciato una masterclass in cui ti racconto un po' di cose più teoriche di manifestazione in relazione al tuo business, che vuol dire manifestare soldi che provengano specificamente dal tuo business. E trovi anche i workbook con tutti i passi, compresi un sacco di esempi presi dalla mia esperienza come imprenditrice e davvero non credo di essermi mai messa così tanto a nudo. In questo episodio invece parliamo un po' di questo passo della manifestazione che è il decluttering. Allora per manifestare dei soldi devi assolutamente diventare minimalista a tutti i costi, ma sicuramente per manifestare soldi sarà molto utile lasciare andare cose che non ti servono e che creano confusione energetica e mentale e che sono inutili. Parto da un esempio per farti capire qual è il legame fra manifestazione e decluttering. Quello che nel tempo ho imparato che funziona molto per me, e in realtà insomma non è che l'ho scoperto io, ma in realtà è stato già scoperto e già sperimentato, è il legare il decluttering al mio preciso obiettivo di manifestazione. A febbraio volevo manifestare 1700 euro in sei giorni e sapevo che uno dei passi necessari era il decluttering. Casa mia tendenzialmente è abbastanza alleggerita, o almeno così pensavo, perché un giorno cercando dei documenti all'interno di un armadio mi sono resa conto che c'erano i classici scheletri. Ho trovato all'interno di tutti i documenti contabili della mia prima commercialista che non mi, con cui non mi sono trovata, diciamo per educare la cosa non mi sono trovata molto bene. Quindi c'erano ancora tutte le cose insomma dell'apertura della partita IVA, quei documenti li ho tenuti, ma tutto il nostro scambio, le fatture che ho fatto, insomma un sacco di cose che comunque mi ricordavano di questa relazione di lavoro che non era stata molto piacevole. Però era appunto una relazione di lavoro e collegata al denaro. Quindi cosa ho fatto? Mi sono presa un'oretta, in realtà me ne è servita anche molto meno, e ho tirato fuori tutti questi faldoni e ho buttato via tutto quello che non aveva senso tenere. Si tratta di fatture del 2012-2013, forse anche prima, anche quindi alcuna valenza, le tasse su quella roba lì ce l'ho già strapagate. E ho riempito di tutte queste robe contabili un sacchetto enorme, è presente quelli di tutto plastificato che trovi alle casse dei supermercati, quindi abbastanza grosso, pieno, pieno zeppo di roba relativa alla contabilità. L'ho buttato via subito perché anche quello uno dei trucchi è non tenere lì le robe, poi le poterò andare il prima possibile al bidone. E questo mi ha fatto sentire superleggera, proprio come se avessi chiuso definitivamente un capitolo. Quindi ho ringraziato la Silvia che ha deciso di aprire partita IVA un po' di anni fa e mi sono sentita pronta ad affrontare un nuovo capitolo, che è quello di adesso. Perché quindi fare decluttering? Perché è davvero uno dei modi, io l'ho testato mille volte, uno dei modi più veloci per manifestare abbondanza. Perché? Perché ti aiuta a liberarti di tutto quello di cui non hai più bisogno per vivere e ti aiuta a alleggerire, a pulire l'energia e a dimostrare all'universo che c'è spazio per raccogliere nuove cose. Perché se è tutto strapieno sia digitalmente che fisicamente e anche mentalmente, quindi è anche utile sempre anche lavorare sulle emozioni, sulle relazioni che non funzionano, sui pensieri, quindi anche quello, anche di quello va fatto decluttering. Ma oggi parliamo principalmente proprio di decluttering fisico. Perché dovresti fare decluttering? Perché fare decluttering ti fa sentire bene, perché pulisce, ci sono meno cose in giro, quindi anche la mente si calma. Crei dello spazio energetico che aiuterà nuove energie a muoversi. Lascerai andare vecchie energie che non ti servono più e imbarazzi passati, come è stato il mio caso della vecchia commercialista, a cui non riuscivo a dire nulla. Lei mi diceva di pagare, io pagavo, non ho mai capito se ho pagato giusto, ho pagato sbagliato, non mi piaceva come mi mandava l'email. Era stata alla fine una fonte di imbarazzo in qualche modo. Non accetterai più compromessi o schifezze nella tua vita, perché capirai che la fatica di sbarazzarti delle cose ti farà scegliere molto più saggiamente e molto più con calma quello che entra nella tua casa e nella tua vita. Ti libererai dal passato. Sarà più facile creare il vuoto e questo vuoto farà spazio a nuove opportunità. E anche se vogliamo una prova di fiducia, quindi tu declatteri prima che i soldi appaiano. Ad esempio il copri piumone che usi ha dei buchi, se è l'unico più copri piumino che hai, tientelo. Se ne hai degli altri più belli e ne tieni anche uno con i buchi o che non ti piace più, buttalo via ancora prima di avere eventualmente i soldi per ricomprarne uno nuovo, perché questo dice all'universo ho fiducia in te che tu mi manderai i soldi per acquistare un nuovo copri piumone, copri piumone, asciugamani, qualunque cosa. Alcune cose sono altamente simboliche e mostrano all'universo che sei davvero intenzionata a creare una nuova vita ed è questo il mio caso, nel senso che io ho scelto di fare declattering di cose contabili perché la mia manifestazione era legata al denaro e quando declatteri apri sicuramente delle nuove vie perché la ricchezza possa arrivarti. Quindi ti do alcuni esempi, alcuni spunti di aree specifiche in cui dedicarti a declattering, diciamo siamo in primavera, anche a fare le pulizie di primavera, in modo da far spazio all'abbondanza e alle cose belle nella tua vita. La zona da cui iniziare, perché forse anche quella più facile, è quella dell'ambiente in cui vivi, soprattutto diciamo la casa, anche l'ufficio, anche la scrivania e di solito è proprio la cosa che fa fluire immediatamente le energie. Quando sei sicura che tutti gli oggetti, le cose che stanno nella tua casa hanno un proprio spazio disegnato, accade un qualcosa di magico. Tieni conto che la tua casa o il tuo ufficio o entrambi dovrebbero essere una specie di santuario per la tua anima, dovrebbero essere uno spazio armonioso in cui tu ti muovi con serenità, uno spazio che soprattutto la casa ti invita al rilassamento, a goderti le cose, a essere felice, anziché essere sopraffatta dal disordine. Quindi più cose hai in giro per casa, più il tuo occhio si appoggia su ognuno di questi oggetti e non si riposa mai. Il mio consiglio non è quello di partire dall'interno, quindi da dentro gli armadietti, dentro i cassetti. Parti semplicemente dalle superfici orizzontali, quindi il tavolo, i tavoli, le scrivanie, il mobile della tv, tutte le varie menstre, tutti, diciamo, tutte proprio le superfici orizzontali, fai un giro per casa, anche magari mettendoti un timer da 15 minuti e butta semplicemente la spazzatura. Cosa intendo per spazzatura? È ovvio che tu non è che tieni i sacchi della spazzatura sulle superfici orizzontali di casa. Però magari hai uno scontrino qui, una ricevuta là, una fattura da sistemare, il volantino dell'idol, la rivista che hai preso al supermercato o che hai comprato e che non leggi. Quindi in giro per casa, su queste superfici orizzontali, hai un sacco di roba che è totalmente inutile e aspetta semplicemente di essere buttata via. Quindi fai il giro per casa con un sacchetto in mano e butta via le cose. Una volta che le superfici a vista sono pulite e tenute, diciamo pulite in ordine, senza roba sopra, in quel momento lì puoi dedicarti agli spazi contenitivi. Secondo me farlo prima, non dico che sia inutile, perché anche quello è sicuramente utile, però una volta che tu hai sistemato un cassetto e intorno c'è ancora confusione e, diciamo, fra virgolette spazzatura, ti sembrerà di non aver fatto nulla. Sì, ok, tu sai che quel cassetto lì adesso contiene solo cose davvero utili, però una volta che l'hai chiuso c'è poco gusto. Iniziare dalle superfici orizzontali a vista dà sicuramente più gusto e sì, abbiamo bisogno di un piccolo conforto. Un'altra cosa su cui fare decluttering riguarda i soldi. Prenditi il tempo di svuotare completamente la borsa, lo zaino, il portafoglio, il portamonete, gettando via tutti i vecchi scontrini, tutti i vari pezzettini di carta, anche qui, spazzatura. All'interno del portafoglio metti le banconote in ordine crescente e con la filigrana tutte dello stesso verso. Sembra una roba un po' da maniaci, però ti assicuro che poi quando apri il portafoglio e vedi tutte le banconote in ordine fai anche prima pagare, se paghi quei contanti, e comunque segnali ai tuoi soldi che li rispetti e ti fa piacere trattarli bene. Quando mostri ai tuoi soldi l'amore che provi per loro e ti dà il permesso di stare in uno spazio pulito e ordinato e di portarti in giro nella borsa qualcosa di pulito e ordinato, è un modo proprio per aprire i canali che faranno fluire la prosperità. Di come pulire il portafoglio e di tenerlo in ordine per attirare l'abbondanza ne ho parlato in uno dei primissimi episodi del podcast che è il numero 38, poi ti metto qua i riferimenti qua sotto nelle note dell'episodio. Un'altra cosa su cui è interessante diciamo fare decluttering sono le relazioni. Non ti dico di richiuderti su un eremo, assolutamente no, però per l'esperienza che hai sicuramente nella tua vita ci sono delle relazioni che ti tirano su e altre che ti tirano giù. Fare un decluttering, che qui prendilo fa virgolette, delle relazioni è una meravigliosa opportunità per praticare compassione e self care. Cerca di circondarti di persone che ti piace avere intorno, come non so, ad esempio tutte le scritte alla Metiti Comoda Academy, anziché circondate nell'energia di alcune persone che sappiamo benissimo, che purtroppo tutte l'abbiamo avuta nella nostra vita, persone che ti buttano costantemente giù e ti criticano in continuazione. Se si tratta di amiche o amici magari è più facile, non so, sentirsi un pochino di meno, stare attenti che insomma quando parte la lamentela, cercare di ridirezionare il discorso. Magari se sono persone in famiglia che tendono a buttarti giù non è così facile, però anche in questo caso puoi ridirezionare il discorso, diradare un pochino le frequentazioni, insomma puoi trovare un modo, non ti dico per forza appunto di ritrovarti sola e abbandonata. Un altro ambito in cui iniziare a fare un'opera di decluttering è la tua salute. Il tuo corpo è il tuo tempio e per questo che è così importante declutterare, quindi eliminare tutte le cattive abitudini in modo da lasciare maggior spazio alla salute. Fai in modo di avere una dieta il più possibile semplice con cibi semplici e non troppo elaborati. La cosa più semplice ad esempio è proprio non far entrare in casa dolciumi, snack salati, le cose che insomma sai che non sai resistere, quindi il pacco di biscotti o il pacco di patatine, se non li hai in casa è molto più facile resistere. Altra cosa per diciamo anche qui declutterare le tossine e depurarti è bere più acqua, mangiare più frutta e verdura, però ci sono anche cose non materiali di cui dovresti liberarti, ad esempio cose che aggiungono fatica quotidiana, quindi se ci sono cose che fai ripetutamente, che ti affaticano, come potresti semplificarle? C'è un qualche modo per rendere le cose più facili? Oppure butta via anche tutti gli oggetti rotti da riparare, quelli che hai un neurone in testa che dice eh sì quella cosa lì devo portarla a riparare ma è lì da mesi se non anni, cose che non funzionano più tanto bene che ogni volta che le usi ti causano frustrazione, prendi e butta via. Butta via anche tutto quello che non è più te, che non ti somiglia più, che non coincide più con la tua, la nuova versione ideale e lussuosa di te stessa, quindi la persona che tu vuoi diventare. Le cose che rappresentano una vecchia versione di te se ne devono andare. Anche qui quando parlo di lasciare andare non è necessariamente buttare via, potrebbe essere anche vendere, donare, magari appunto portare in beneficenza, portare in chiesa, valuta, però fa in modo che anche quello sia un progetto che inizia e finisci, non che in garage poi c'è un cartone enorme con le cose da donare e stanno lì per anni. No, decidi quali sono le cose da donare, prendi la macchina e vai a donarle. Butta via anche tutti i ricordi di fallimenti passati, soprattutto se riguardano fallimenti legati al denaro, alla finanza o al lavoro. Butta via anche tutti gli oggetti che tieni per senso di colpo, per obbligo, tipo te l'ha regalato la zia che non vedi mai e lo tieni lì e tieni quella soprammobile che non ti piace in bella vista solo perché te l'hanno regalato e poi la zia ci rimane male. La zia la vedi una volta all'anno, quando la vedi eventualmente tiri fuori quell'oggetto se ne proprio devi e se no pazienza. Butta via anche tutto quello che non serve più al suo scopo e o tutto quello che non vorresti nella tua prossima vita da persona ricca o più ricca di quanto sei adesso. Sono certa che in questo momento il tuo cervello sta mandando un sacco di segnali allarme, ti fermo subito e cerco di rispondere a tutte le scuse che potrebbero già esserti venute in mente. Quindi, ma Silvia era un regalo, non posso buttarlo via? Sì, puoi. Ma era costoso, l'ho pagato tanto, anche se questa cosa qua in questo momento non ti serve a nulla oppure è orribile. Lo so che il senti in colpa per averci speso dei soldi, ma se è una cosa che tanto non usi più, non ti piace più, averla lì è solamente un reminder per il senso di colpa. Il senso di colpa ne hai già abbastanza nella tua vita, non ti serve un oggetto che te ricordi. Quindi lo prendi, lo butti, lo doni e poi eventualmente fai journaling su lasciare andare nel senso di colpa per aver buttato via i tuoi soldi. Ti servirà perché la prossima volta magari ci pensi un pochino di più prima di spendere quei soldi. Ma Silvia, mi serve per una cosa che non ho mai usato? Oppure, prima o poi lo userò? No, non lo userai. Oppure, vabbè, tengo questo che è meglio di niente? Assolutamente no. Oppure, aspetto di avere i soldi per cambiarlo prima di buttarlo. Quindi non so, ti tieni il piumone coi buchi finché non avrai soldi per comprare uno nuovo. Allora, se è l'unico copripiumone che hai, tientelo. Però davvero, metti da parte i soldi per comprartelo uno nuovo, alla fine se ne trovano anche a supermercato a pochissimi euro, che magari non sarà il copripiumone perfetto, ma se hai bisogno di un solo copripiumone, va bene anche quello. Se ne hai degli altri però, quello lì lo butti via e vedi sopra. Quindi comunque ti metti da parte i soldi per compratene uno che ti piaccia di più. Perché l'universo funziona con la fiducia. Quindi tu devi avere fiducia che l'universo provvederà, puoi aspettare che l'universo provvede e poi tu fai le cose. No, tu hai fiducia che l'universo provvederà e quindi inizi a fare l'azione. Vi incontrate a metà strada. Oppure, ma Silvia non avrò nulla da mettermi se do via tutti questi vestiti. Ne dubito seriamente. Però anche in questo caso ti tieni vestiti per 4-5 outfit e tutto il resto di una taglia che non metterai più, di una taglia troppo grande, troppo piccola, di occasioni che non verranno più nella tua vita, lascia andare. Avere un armadio con poche cose davvero la mattina ti semplificherà la vita e ti sentirai molto più rilassata. Tutti questi consigli e suggerimenti puntano a un'unica direzione. Quando fai spazio nella tua vita e lavori per alzare la tua vibrazione l'abbondanza arriva. Fluirà naturalmente nella tua realtà. Faccio un'altra nota. Non pretendere di declatterare tutta la casa e tutta la tua vita in un'unica sessione se non vuoi mollare tutto dopo la prima mezz'ora sopraffatta dal casino e quindi avere la casa ancora più incasinata di prima. Lo so che mi sembra Marie Kondo, mi sembra di ricordare dal suo libro, lei consiglia di fare tutto in una botta, quindi di svuotare tutte le armadie e dedicarti al decluttering. A me prende male così. Io ho bisogno di, piuttosto preferisco fare i baby step. Quindi un giorno faccio, non dico un'altra dell'armadio, però faccio una parte dell'armadio, poi faccio i cassetti, ho un approccio misto. Quindi affronto categorie e ambienti e a volte spezzetto proprio gli ambienti. Come ti dicevo sono una fan dei baby steps, quindi i piccoli passi. Anche perché davvero con l'esperienza ho capito che se vedo davanti a me una montagna di roba io mi scoraggio e vanno lì e scappo. Veramente prendo le chiavi e vado fuori di casa. Declatterare anche solo uno scaffale, una mensola, una cassettiera mi mette davanti a un progetto piccolo e gestibile in poche ore, se in quel momento ho solo quello a disposizione. Quando so di avere davanti a me un pomeriggio intero, una mattina, non so, la domenica, allora posso dedicarmi a progetti un pochino più importanti che possono riguardare una stanza intera oppure, diciamo, una buona parte dei mobili di quella stanza. Il mio approccio è più funzionale che per categorie, quindi preferisco affrontare la semplificazione di un mobile alla volta, quindi il comò, l'armadio, le mensole, anziché, non so, andare per i libri di casa. Eventualmente, non so, prima faccio questa libreria che ho qua dietro, oppure la libreria del corridoio, quindi vado eventualmente per scaffali. Ovvio che in ognuno dei vari contenitori troverò tendenzialmente oggetti appartenenti più o meno alla stessa categoria e quindi diventa comunque più facile decidere. L'invito è anche quello di buttare tutti i, e se poi mi serve di nuovo? Soprattutto le cose che, e se poi mi serve di nuovo, ma non usi da due anni? Perché ti dico di buttarle via? Perché tu stai lavorando per manifestare più soldi, quindi come dicevamo prima, hai fiducia nell'universo che se ne avrai di nuovo bisogno, e ti assicuro che probabilmente non sarà così, avrai soldi per comprarlo di nuovo. Quindi se proprio ti serve, lo ricomprerai, ma vedrai che tanto non ti servirà più. Se non l'hai usato per due anni, probabilmente non ti servirà mai più. Però, altra cosa, se verso una cosa hai un forte attaccamento emotivo, quindi prendi in mano questa cosa e fai fatica a lavorarci, lasciala un attimo da parte, magari mettila da parte, ma non affrontarla adesso. Insomma, deve essere un decluttering comunque piacevole, gioioso per alleggerire, non per appesantirci. Faccio una confessione, io sono molto brava col decluttering, tranne la scatola dove ci sono dentro i vestiti di mia figlia da piccola. Mia figlia ha appena fatto 18 anni. I vestiti, diciamo, dei primi sei mesi, io apro quella scatola, mi prende male, chiudo la scatola e la rimetto là. A un certo punto, ovviamente, arriverà un momento in cui aprire quella scatola non mi provocherà un sacco di emozioni e quindi la affronterò e probabilmente poi donerò quei vestitini, quei body, quelle cose. Sento arrivare un'altra domanda. Ma Silvia, cosa faccio delle cose di cui voglio liberarmi? Le vendo o non le vendo? Allora, la mia domanda è, vale il tuo tempo? E soprattutto, lo farai davvero? Allora, prima cosa per dire, su Vinted le cose si vendono davvero pochissimo, a pochissimi soldi e quindi valuta. Cioè, se, non so, è una borsa di marca che a te non piace più e puoi venderla, va bene. Però devi fare le foto, devi caricarla, lo fai davvero? Se lo fai davvero ottimo. Se la metti lì, in un angolo Vinted, in cui dici, vabbè, prima o poi farò le foto, le caricherò e dopo sei mesi è ancora tutto lì, prendi e porti via. Tieni conto, appunto, che su Vinted o comunque su questi siti di vendita non si guadagna tantissimo e probabilmente se fai il conto del tempo che ti ci vuole per fare le foto, per caricarle, per stare dietro ai messaggi, se magari avessi lavorato sul tuo business in quell'ora lì, forse avresti portato a casa un pochino più di soldi. Quindi io metterei sempre in conto anche questo. Di solito, appunto, il tuo tempo, soprattutto se sei un'imprenditrice, vale molto di più di quei pochi euro che guadagnerai. L'altra cosa che puoi fare potrebbe essere, se hai dei figli in età adolescente tipo la mia, potrebbe essere dare a loro questi oggetti da caricare e vendere per guadagnarsi qualche soldo. Quindi questo potrebbe essere una cosa per cui la casa si alleggerisce e loro iniziano a guadagnarsi un pochino di soldi, stanno dietro alle proprie vendite. Quindi gli insegni un pochino di spirito imprenditoriale, che male non fa. Anche il donarlo a qualcuno dipende. Dipende quanto ci metterai a donarlo a questa persona. Quindi se te lo devi tenere in casa perché prima o poi vedrai questa persona a cui potrebbe piacere, quindi valuta. Se questa persona lo vuole davvero, perché magari tu vuoi donare un paio di scarpe a una tua amica, a lei questa roba non piace, non le va per un qualunque emotivo. Quindi assicurati che questa persona desideri davvero quello che tu le vuoi donare e cerca, se i tuoi genitori hanno una casa più grande della tua, non portare i tuoi vestiti che non ti stanno più a casa loro perché non è giusto aggiungere disordine a casa degli altri per liberare casa tua. A livello di energia e di karma non funziona tanto bene. L'ultimo passo appunto è quello di togliere veramente la roba che vuoi buttare via. Toglierla da casa tua. Quindi prendi la macchina, va in parrocchia, va al mercatino di beneficenza, ai bidoni della Caritas, ricicla quello che puoi riciclare eventualmente, quindi separa carta, plastica eccetera eccetera, porta tutto all'ecocentro e lascia andare. Angelisciti davvero. Ti lascio con alcuni spunti di journaling su cui lavorare mentre ti dedichi al decluttering o appena finisci. Ho scoperto nuove cose su di me, sulle mie emozioni e sui miei pensieri a proposito del decluttering. L'idea di fare decluttering delle mie cose mi piace o mi fastidisce e perché? Qual è la cosa più simbolica di cui mi devo e voglio liberare? Qual è la cosa di cui so che mi dovrei liberare ma per la quale sento una fortissima resistenza? E perché sento questa resistenza? Cosa c'è sotto? Ci sono persone di cui so che dovrei liberarmi e vorrei liberarmi? Concludo ricordandoti ancora una volta che dal 9 al 19 aprile in Academy ci dedichiamo a una sfida di manifestazione. Se vuoi attirare più soldi nel tuo business ti aspettiamo. Le porte dell'Academy sono aperte e solo per questo mese se clicchi sul link che trovi qua sotto in descrizione puoi iscriverti a 33 euro. Ci sentiamo nei prossimi episodi. Un bacio!